un terzo disegno terzo disegno siamo in diretta attenzione oddio che era in diretta su instagram c'è la live diretta di di cosa chissà abbiamo anche sbustato mi sa di 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 che sbustiamo non che sbustiamo non mi ricordo vabbè mi sorprenderai mi sorprenderai però la faccia facciamo cosa facciamo stasera la top ten di top ten o top five cosa avete preparato abbiamo fatto dei singoli più ascoltati in europa esatto da hit parade degli anni 90 e gli anni 80 salutiamo un sacco di gente che ci sta seguendo da instagram c'è anche mister ricchi ciao mister ricchi siamo su 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 legge the gathering con ultimate grazie per i cuori con ultimate masters ebbene sì questo master set che ci saluta in bellezza ci saluta ciao matteo il prossimo mese diranno stavamo scherzando c'è boss domenica non sei venuto dove all'ecs io c'ero eh c'era c'era l'ultimate master diranno è l'ultimo master questi si chiameranno ultimissimi ma facciamo un sondaggio secondo il chiusato dopo facciamo il video di quelli che aspettano il prossimo master set come si chiamerà the new masters no leveranno sbeccheranno non chiameranno più master perché devono inventare qualcosa di nuovo segno altrimenti che l'hanno assunto a fare l'ultimo dirigente che ci chiederà il suo nome si chiamerà pippo pippo masters eh sì esatto pippo baudo master sarà il pro ristampe ma si fa come pippo baudo dura tanto come prodotto pippo baudo reloaded guarda facciamo sei master set di più di sei master set ma no dai che ristampano stai dual e si e ci vuole dai dietro l'angolo dietro l'angolo domani quando quando ristampano le dual sarà il gradino prima del fallimento non sarà un buon segno no non sarà per niente un buon segno quando gli ah no c'è chiara che è in attesa della vostra punizione comunque chiara è in attesa della vostra punizione sono diventato schiavo di boss mi domanda che c'è chiara che ce lo ricorda esatto esatto grazie chiara a parte che questa settimana tutte le persone che venivano hanno detto ma hai visto boss eh ho visto nella diretta nel video in tutto cioè c'è una roba di gradata ciao Matteo ciao Matteo allora adesso ci spostiamo su facebook dove facciamo sempre la diretta speriamo che la batteria tenga dobbiamo spostare qua un attimino qua siamo un po speriamo che la batteria tenga e che boss tenga il telefono esattamente una catena di sant'altorio incredibile stiamo facendo oh finalmente finalmente ci siamo un saluto a tutti voi di instagram andiamo su facebook se volete seguire la diretta della della classifica della top ten del parade però è bello il parade ci sta che ne pensate cards parade ci può stare no top ten cards top ten cards parade magic parade magic parade la magic parade però dai ci sta no che poi sembra tipo magic pride qualcuno si sbaglia a leggere non lo guarda ma io non lo metterei non lo metterei perché ci potrebbero mettere queste piccole differenze esatto girone quell'altro no ma la parade la parade non è la parata però no il parade è l'orgoglio il parade è la parata la parade parade se vuoi boss la parade parade no paraggi che parade ci sta secondo me non viene confusa con cose le top parate c'è dentro buffon allison al posto di sicuro non donna ruma donna ruma attenzione va bene va bene va bene pintavo di nuovo presidente della repubblica è scritto grande dopo meladone presidente della repubblica è scritto eh non so se si vedi ha detto presidente della repubblica delle banane delle banane della parade della parade grazie mi candiderò sicuramente aspetta c'è anche una domanda ragazzi un mio amico ha trovato il doom e la felice di arcolampo fuori in un pack lo devo menare lo devi menare dipende puoi anche solo addormentarlo e prendere le carte però c'è anche la maniera violenta menarlo e prendere le carte puoi anche farti prestare le carte e raccontare una bella storia su come l'hai persa o te l'hanno rubata e poi si sveglierà prima o poi la domanda della serata è qual è il colmo per uno spirito essere spiritoso potrebbe potrebbe anche essere uno spirito essere secondo me essere spiritoso è la risposta corretta lo scopriremo Matteo scrivilo che così almeno lo comunichiamo e poi possiamo iniziare finalmente il parade sicuramente tutto questo è stato fatto perchè a boss piace dire il parade in quel modo il parade vero esatto bene 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 salutiamo tutti e Albertino è in M2O adesso Albertino è in M2O la notizia e si è in M2O bomba bomba incredibile assolutamente ha tradito breaking news ha tradito radio dj dopo secoli ma secondo me rimane da una parte dall'altra e chi prende soldi dappertutto anch'io Albertino si doppio lavoro la risposta è fare una serata spiritica io andrei in diretta su facebook prima che chiuderò l'internet al posto grazie Matteo grazie a tutti ci vediamo su facebook se volete seguirci goodbye ciao